devo fermare questa roba tu sottovaluti il potenziale di questa cosa tu stai creando una comunità e se non vuoi farti carico di un'intera comunità lascia almeno che ognuno dia il suo contributo, lascia che ti aiutino quelli ti seguirebbero in capo al mondo che faccio? vi faccio pulire le stanze oh, ma mica siamo una setta di quelle che manipolano la testa della gente no, non lo siamo no